eccoci qua buongiorno stiamo andando in spiaggia prima giornata di mare che bello tra l'altro non fa neanche caldissimo si sta l'amore quello vero può superare prove davvero complicate e difficili e mai smettere di credere nell'amore quanti di voi pochi mesi fa credevano nell'avvicinamento di due ex innamorati come perla vatiero e mirko pensate l'amore ha trionfato e i due ragazzi sono ancora più innamorati di prima ora si stanno rilassando facendo una vacanza shem sheikh all'estero una località sicuramente molto romantica i due ragazzi sono ritornati dove sono stati bene infatti già hanno fatto l'esperienza di quella vacanza due anni fa a questa volta più consapevoli e determinati del loro amore un amore che è passato dal perdono no 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 Grazie a tutti.